Si crede che essenziale è l'uso sostenibile delle risorse e perché questo accada, si ritengono fondamentali un'educazione e una responsabilità. Secondo lei, quali sono i fattori costitutivi di un agire sostenibile? A livello industriale è fondamentale essere consapevoli che si utilizza un bene comune come l'acqua. Noi siamo un'industria che ne utilizza poca, fortunatamente, ma abbiamo imparato a utilizzarla meglio, utilizzarla di meno. Ciò non basta perché come impresa siamo parte di una comunità, quindi dobbiamo porci il problema di poter essere utile a quella comunità e questo ci ha portato, ed è quello di cui ho discusso qui al meeting, a identificare una partnership con il Consorzio di Bonifica Veronese e creare un'area forestale di infiltrazione che andrà a ricaricare la falda dalla quale preleviamo l'acqua. Quindi la responsabilità sta nella consapevolezza del proprio ruolo, nell'operare secondo coscienza e nel rispetto delle risorse naturali e di trovare delle forme di collaborazione con il pubblico in un'ottica di sostenibilità reale che presuppone quella economica, ambientale e sociale.